Probabilmente quella napoletana è la scuola di pallannuoto più importante d'Italia. Abbiamo veramente squadre che sono competitive in Italia e in Europa. Vogliamo far sì che questa scuola possa essere modello di sviluppo e soprattutto modello anche per altri sport. La pallannuoto di Napoli resta un'eccellenza della città. Sono stati accolti nella sala della giunta di Palazzo San Giacomo per essere premiati dall'amministrazione comunale di Napoli. La squadra di pallannuoto del circolo nautico Posillipo Under 15 è campione d'Italia. Un'impresa sportiva di grande profilo tecnico ed agonistico che li ha visti ad agosto trionfare con sei vittorie su sei partite nelle finali nazionali al polo natatorio del centro federale di Ostia. Battute, anzi dominate, tutte le più forti squadre italiane. Fino alla finale con il Savona, regolata con il perentorio punteggio di 8 a 3. È un traguardo che rappresenta la continuità per il Posillipo e per il futuro. Senza dimenticare che comunque anche negli altri anni, forse abbiamo perso la finale con la Cannottieri e anche l'anno precedente. Quindi come fatto, il Posillipo è una delle società di pallannuoto che ci arriva ai più forti in Italia. Oltre con la pallannuoto, con le altre nostre sezioni sportive, tipo Cano Apollo, che abbiamo avuto l'allenatore della squadra che ha vinto i mondiali, più tre giocatori stessi della squadra, più il bronzo dei ragazzi, delle giovanili della Cano Apollo ai mondiali.